Musica Buonasera e benvenuti a ETG in apertura alla cronaca questa sera il cadavere di un uomo è stato rinvenuto stamani su un campo adiacente alla careggiata sud dell'autostrada A14 a circa 3 km dal casello di Imola. A ritrovare il corpo è stato alle ore 10.45 di questa mattina l'agricoltore proprietario del terreno che stava controllando il proprio peschetto limitrofo ad una piazzola di sosta. L'uomo ha scorto sull'erba il corpo di un giovane di pelle scura dell'età apparente di 20-25 anni vestito con una maglietta alzata sul torace e che secondo i primi riscontri di polizia poteva essere stato trascinato per alcuni metri e gettato nel campo da almeno due o tre giorni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, la polizia scientifica per i primi rilievi, non si esclude alcuna ipotesi nemmeno quella dell'omicidio. Ed è caccia all'uomo in provincia di Reggio Emilia dopo una tentata rapina in una casa di poviglio. Tutto è successo ieri sera nel comune della Bassa Reggiana dove una famiglia di cinesi, gestori del negozio Gran Bar, rientrando a casa dopo il lavoro, hanno sorpreso all'interno dell'abitazione una coppia di malviventi con volto travisato e armati di coltello. I due avevano immobilizzato la babysitter che era presente in casa. La loro intenzione era infatti impossessarsi dell'incasso giornaliero del negozio. Ma a quel punto il capofamiglia e la consorti hanno reagito, i rapinatori hanno colpito la donna con un oggetto, poi sono fuggiti. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato ovviamente le indagini e le ricerche dei banditi. La moglie, 39 anni, è rimasta ferita, è stata ricoverata all'ospedale di Reggio Emilia con una prognosi di 10 giorni. E un detenuto di origine magrebina nel carcere sempre di Reggio Emilia ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, rafferendolo con una lametta. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, l'agente ha riportato una prognosi di tre giorni. A riferirlo è Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAP e il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. E adesso un episodio da arancia meccanica avvenuto a Bologna. Un anziano clochard è stato pestato e rapinato la scorsa notte in un vicolo del centro da un gruppetto di 4, forse 5 giovani. Il senza fissa dimora di 74 anni, originario di Pistoia, è stato soccorso e portato all'ospedale, medicato per le escoriazioni e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Mentre camminava in via De Toschi, una stradina del centro, era stato avvicinato dal gruppetto, tra cui c'era anche una ragazza. Lo hanno circondato e uno dei giovani l'ha colpito con due pugni al volto e al torace. Agli agenti il clochard ha detto di essere stato rapinato in un borsello con dentro circa 200 euro un orologio e i documenti. Un episodio grave, brutto e preoccupante che porta alla risonanza dei fatti di Firenze e di Torino, ha commentato il direttore della Caritas di Ocesana di Bologna, Paolo Mengoli. E siamo adesso alla politica. Il segretario nazionale del Popolo della Libertà, Angelino Alfano, era presente oggi a Reggio Emilia in occasione del congresso provinciale del partito. Ha dichiarato che per il PDL è stato meglio sostenere il governo Monti piuttosto che andare subito alle elezioni. Vediamo. Ospite d'onore al congresso del PDL di Reggio Emilia, il segretario nazionale del partito, Angelino Alfano, ha dato così il via ai congressi provinciali anche in Emilia-Romagna. Tutti gli eletti saranno chiamati dal basso e non nominati dall'alto, ha detto Alfano, che ha risposto poi alle domande dei cronisti sul governo Monti. È meglio sostenere questo governo che andare alle elezioni subito in questo momento di crisi, ha spiegato il segretario del PDL. Abbiamo votato perché riteniamo che ciò che accadrebbe in assenza di questo governo sarebbe peggio. Se si andasse al voto domani faremmo le elezioni in un tempo di crisi talmente grave per cui è meglio sostenere questo governo che andare alle elezioni subito. Alfano ha espresso un giudizio anche sulla manovra finanziaria del governo Monti. Non ci ha convinto dal punto di vista filosofico, ha scandito, perché è segnata da troppe tasse. Noi lo abbiamo incitato a fare meglio e crediamo di aver inciso su alcuni aspetti essenziali. Adesso lavoriamo per far sì che il versante sviluppo sia quello fondamentale. Infine è una considerazione sull'ex alleato, la Lega Nord. Con la Lega governiamo insieme in gran parte del Nord e questo è un dato che fa vivere l'alleanza. Poi è ovvio che in questo momento abbiamo assunto decisioni differenti, ha concluso Alfano. Sono stati pubblicati sul sito della Regione i redditi della Giunta e dei consiglieri. Dalle dichiarazioni che si riferiscono all'anno 2009, il più ricco è l'ex rettore dell'Università di Ferrara, Patrizio Bianchi, attuale assessore all'istruzione. Vediamo il servizio di Giuseppe Piloni. Dal punto di vista del reddito è sicuramente una giunta di valore quella che guida la Regione Emilia-Romagna. Metà degli assessori di Viale Aldomoro ha infatti un imponibile da oltre 100.000 euro e qualcuno sfiora anche i 200.000 euro, come il titolare della Delega all'istruzione Patrizio Bianchi, che è il più ricco della Giunta e dichiara nel 2010 un imponibile di 196.788 euro. Il quadro emerge dalla dichiarazione dei redditi 2010 della Giunta pubblicati sul sito della Regione. Erreni dichiara un imponibile da 137.178 euro. Bertelli, braccio destro del governatore, dichiara 120.075 euro. Tra i più ricchi figura anche l'assessore regionale alla sanità Carlo Lusenti, che nel 2009 svolgeva ancora la sua professione di medico. Dalla sua dichiarazione dei redditi 2010 risulta un imponibile di 154.139 euro. La più povera della Giunta invece è Paola Gazzolo, assessore alla difesa del suolo, che dichiara un reddito annuo di 20.260 euro. Per quanto riguarda i consiglieri regionali, il più ricco è Tiziano Alessandrini, esponente del PD, che ha un imponibile di 191.127 euro. Segue il leghista Roberto Corradi con 160.837 euro. Al terzo posto si piazza Silvia Noè, che nel 2010 dichiarava un reddito di 159.518 euro. Nella parte alta della classifica anche Monica Donini, all'epoca presidente dell'Assemblea e oggi consigliera regionale di rifondazione comunista, con un reddito di 138.766 euro. Nella top 5 dei consiglieri regionali più ricchi è anche Enrico Aimi, esponente del PDL, con un imponibile di 147.444 euro. Il più povero dell'Assemblea è il grillino Giovanni Favia, che ha presentato solo il suo CUD 2010, da cui risulta un reddito di appena 8.133 euro. Thomas Casadei invece ha presentato solo la dichiarazione dei redditi della moglie, 22.283 euro annui e non risulta proprietario di alcun immobile. Il prossimo sarà un capodanno africano per il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che è in partenza per la Tanzania. Il primo cittadino che ha rilasciato una lunga intervista all'edizione bolognese di Repubblica sui primi sei mesi di mandato, ha rivelato che tra qualche giorno partirà per il continente africano, dove andrà a visitare la missione della Diocesi di Bologna. E proprio dal settimanale diocesano Bologna 7 si apprende che il primo cittadino farà parte della delegazione bolognese, che andrà in Tanzania in occasione dello storico trasferimento della missione, dopo 37 anni, dalla parrocchia di Usokami a quella di Mapanda. Per l'amicizia che lo lega Don Tarcisio Nardelli, Virginio Merola ha accettato di partecipare ed essere presente, ha detto il vicario generale della Diocesi, Monsignor Giovanni Silvani, anche se partecipa a titolo personale di amicizia, non sfugge che la sua sola presenza rappresenta l'intera città di Bologna, ha concluso Silvani. Il comitato contro il People Mover non va in ferie. Martedì prossimo staperà bottiglie di sfumante sotto Palazzo da Cursio per polemizzare contro la mancata apertura dell'istruttoria pubblica sulla monorotaia che dovrà collegare nei piani la stazione ferroviaria all'aeroporto. Intanto invitano la regione a spendere diversamente i 27 milioni di euro stanziati. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. A noi in programma un polemico brindisi natalizio per il prossimo martedì in Piazza Maggiore, ma intanto il comitato No People Mover lancia la proposta di dirottare i 27 milioni di euro stanziati dalla regione per la monorotaia sul trasporto pubblico locale. Il collegamento stazione-aeroporto con la navetta sopraelevata è per il comitato inutile per quasi tutti i cittadini bolognesi. Meglio quindi investire quei soldi sul trasporto pubblico locale che a basso costo, a basso impatto e a bassa invasività permette gli spostamenti di tutti. In particolare, insistono i No People Mover, con quei 27 milioni si potrebbero azzerare i recenti aumenti dei biglietti dei bus, aumentati di recente appunto anche del 50%, così come si potrebbero ripristinare linee e corse soppresse o per collegare i Marconi alla stazione utilizzando i normali binari ferroviari. Il brindisi polemico di martedì sotto Palazzo da Cursio si terrà per consolare quei 3.700 cittadini che hanno firmato la richiesta di istruttoria pubblica sul People Mover, poi negata dall'amministrazione Merola. Lo spumante, avverte il comitato, sarà aperto in concomitanza della seduta del Consiglio Comunale perché, conclude polemicamente, visti i precedenti, starà lavorando per qualcun altro e non nell'interesse dei cittadini bolognesi. Parliamo adesso di sanità. A Bologna, quello che era conosciuto come l'ospedale dei Matti, il Roncati, è diventato luogo aperto alla città. L'ex manicomio, dopo poco meno di 4 anni di lavori durante i quali non sono mai stati interrotti i servizi, è stato restituito alla città. L'inaugurazione c'è stato anche spazio per una riflessione da parte del numero 1 dell'Ausl sui ripetuti decessi all'ospedale di Bentivogno. Ma sentiamo il servizio di Simona Iannessa. Un passaggio di consegne simbolico che da un lato chiude la breve stagione del restauro di una struttura storica nel centro della città e dall'altro quella lunga della psichiatria vissuta come separazione e isolamento dei pazzi. Con il passaggio delle chiavi del restaurato complesso monumentale dell'area Roncati dal direttore generale dell'Ausl, Francesco Ripa di Meana, al sindaco Merola, si è chiusa definitivamente la stagione inaugurata nel 1869 con il trasferimento nell'ex convento delle Salesiane di via Santisaia dei malati psichiatrici. Il lavoro di restauro, durato quasi 4 anni, è costato circa 8 milioni e 400 mila euro. Le aree interne coinvolte sono di circa 10 mila e 400 metri quadrati. Tanti anche gli interventi esterni come il ripristino del cortile principale. Attualmente, e continuerà così, il passaggio di consegne è solo simbolico all'interno dell'ex manicomio. Infatti si trovano un insieme di servizi e attività rivolte al pubblico, insostituibili dal Dipartimento di Salute Mentale e i servizi neuropsichiatrici per l'infanzia. Ogni anno sono circa 200 mila i cittadini che utilizzano la struttura, 500 gli operatori. Intanto è stata l'occasione per parlare anche dell'ultimo decesso avvenuto nell'ospedale di Bentivoglio. Nella notte tra domenica e lunedì, Franco Mengoli, 70 anni, è morto dopo essere arrivato all'ospedale con forti dolori addominali. Le condizioni si sono aggravate e sono stati poi inutili i tentativi di rianimarlo. Sulla vicenda c'è un'inchiesta della Procura e un medico indagato per omicidio colposo. Il direttore spera che non ci sia stato nessun errore, ma comunque dice non possiamo continuare ad associare morte e ospedale come una cosa negativa a prescindere. Diamo un messaggio sbagliato che cioè negli ospedali ci si curi soltanto e invece purtroppo non è così. La struttura di Bentivoglio è al centro di polemiche da alcuni mesi. In particolare, in seguito al caso di una donna morta dopo il parto, era stata avviata un'indagine interna dell'Ausle e una della Commissione d'inchiesta sull'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Si è spento ieri nella sua casa a Bologna Luciano Bovicelli, medico ginecologo di fama mondiale. Bovicelli aveva 76 anni ed era malato da tempo. Nel 2003 ha sposato Anna Maria Bernini, con lui in questa foto, ex ministro per le politiche europee. Bovicelli era di origini pesaresi, ma è a Bologna che ha poi avuto sede la sua attività professionale. Fu uno dei maggiori esperti della diagnosi prenatale a livello internazionale. Mercoledì i funerali, poi sarà sepolto nella tomba di famiglia a Pesaro ad Anna Maria Bernini. Le più sentite condoglianze da parte della redazione di ETV. Era questa l'ultima notizia, noi ci salutiamo qui. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.